e come ogni martedì iniziamo la giornata parlando di orchidee e questa settimana lo facciamo con il nostro amico giovanni russo giovanni grazie per la disponibilità abbiamo appena visto una ofris è la prima che condividiamo con il nostro pubblico quest'anno perché è finora abbiamo condiviso una orchidea di robert e un anacantis collina questa è un'orchidea diversa questa è un'orchidea che appartiene al genere ofris ma è un'orchidea molto particolare perché questa è l'offris sipotensis è un endemismo garganico perché fu scoperta proprio qui in territorio di ma qui siamo in territorio di manfredonia fu scoperta da queste parti verso siponde quindi gli diedero questo questo nome anche se poi recentemente è stata scoperta anche in qualche regione più vicino basilicata molise ma resta comunque un'orchidea simbolica del nostro del nostro territorio anche perché è molto bella è una delle prime ofris a fiorire nell'arco dell'anno imbatti la troviamo già vedete a febbraio è già in piena fioritura ha dei colori straordinari con questo color fucsia dei sepere dei petali e questa macula molto importante molto molto lucida quindi genere ofris i generi delle ortidee qui sul gargano ce ne sono diversi ma il più importante più diciamo più interessante dal punto di vista scientifico è quello del genere ofris tant'è che alcuni studiosi a livello europeo considerano il gargano un hotspot del genere ofris perché hanno visto che man mano che a livello europeo ci avviciniamo al gargano aumenta il numero delle specie del genere ofris ma a partire da diciamo da questo periodo man mano che andiamo avanti verso marzo aprile e maggio ci sarà un'esplosione di tutte le altre specie di questo interessantissimo genere grazie giovanni però adesso ne vediamo un'altra anche interessante approfittiamone ed eccola qui l'altra orchidea di cui ci faceva cenno in giovanni giovanni di che orchidea si tratta ecco questa è sempre una specie del genere ofris molto particolare anche questa è una parte di quelli orchidee che di quelle specie di orchidee che sono fra le prime a fiorire nell'arco dell'anno ed è in questo caso è una è una office lupercalis che appartiene sul grande gruppo che prima veniva denominato office fusca tutti i nomi che derivano da questo colore molto scuro dell'abello ma ti abbiamo anche l'office funerea presente tutte le tutti i nomi delle specie che richiamano questo questo colore molto scuro dell'abello ed è a vederla poi nel dettaglio anche questa è molto affascinante come come orchidea grazie giovanni noi speriamo che anche oggi vi sia piaciuto questa pillola sulle orchidee e se così fosse vediamo appuntamento a martedì prossimo